Il passo ho già detto di non essere d'accordo, non sono d'accordo perché la considero una misura inefficace, una misura economicida, una misura che devasta il nostro turismo. Nasceva da parte dell'Unione Europea come tentativo di favorire il turismo, applicato per accedere alla vita sociale, particolarmente se fatto in Italia quando non viene fatto nelle altre mete turistiche, vuol dire sostanzialmente far fallire un'altra stagione turistica, con risultati che sono tutti da valutare perché a dispetto di quello che dice il Presidente Draghi, a me francamente non risulta che i vaccinati non possano contagiare o essere contagiati, che quindi chi accede in strutture nei quali si accede solo con Green Pass ha la garanzia, come ha detto il Presidente del Consiglio, di non essere vicino a persone che possono contagiare, quindi temo che se affrontiamo le questioni così comunque avremo un autunno molto pesante e vorrei sapere dal Governo che cosa si sta facendo per prepararsi a una possibile nuova ondata.